dietro il furgone, dietro la macchinuccia, ce n'è uno bella ok ragazzi c'è il mira dietro il vetro disattivo l'elettronica concussione pronta muoversi faccio 4 da su, mi sono scherzato faccio un'elte è morto da mano, faccio come un abbas bella ziz ma cammina e muoiono tutti e lui wallbang a raga che colpisce, incredibile eh indronate treni raga ciao raga uno che drona treni eh no non ho più droni bellissimo ma non devi trarli one top eh ma dai ciao youtube adesso si basta la tua sorella ho capito mirato guardare il flasca mess mi hai vista facendo le trappole di capcan e gi no ho paura di scavalchetto di flash grazie un go capcan ha fatto un kite se volete eh Vabbè, fa tutto Chris, ciao E' chiavolo Ultimo attacco Noi basta il tutto il pozzo Scara sotto 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 Penso più bene Ivantrago Mamma mia, sto cristo zio Ok io vorrei fare il flank da dieci Eh niente, mi ha visto C'è ormai sempre meno di metà vita Vabbè, questo va chi la scurdo Niente Nuovo caricatore Sono entrati c'è il blitz in bomba Vabbè guarda guarda che morti sto facendo Ma dov'è, dov'è Oh me l'hai potuto bombare Due ce n'hai in bomba due Vabbè guarda che morti sto facendo Drogi, droni, droni Drogi, droni Allora, io volendo in te metto in contesa Dove sta, dove sta, parla Eh oh, ma Ashe, che stai facendo? Ma no! Ma come si fa? Vabbè, io non capisco Stavo all'ai, certo Ma non c'è Smoking, galleria di fuga Ma Ashe, mi hai imitato tu? Eh, guarda, vedi, è la stessa cosa Eh, però Sì F*** Fa chiaro Devo stare con Ashe sopra A coprire, ma non è così Sì Prendete la stanza e proteggete il contenitore Oh la madonna Operatore d'attacco Dornate a occuparvi del contenitore Dopo averne un tratto Un ultimo nemico rimasto No, ok, questo qua sta lei Hai tu Che stanno la enda Oh 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 tenete d'occhio la porta e che devo fare faccio una cosa ho strumento uno da scale uno da lì cosa ci posso fare io scusa il contenitore di biorischio si hanno scoperto bella da una granata lancia un'altra tre non c'è un altro taggio saggio via silenzio ma domani si ma lunedì di pomeriggio non era facile zitto la squadra d'attacco ha trovato una bomba la squadra d'attacco ha trovato una bomba che bomba un imbombo del po' un imbombo da l'ultima che se stanno nella bomba ultimo nemico rimasto volvenga ma ciao youtube ciao ciao youtube hello youtube from the other side colpo un colpo di tirare il grig che torridoio 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 il resto secondo vento bravissimo google sta che apro via che apro niente sulle scale i matti cosa ha fatto sulle scale franci Ok destra Lascialo giocare Madre di dio Non ce l'hai fatta davvero Ma posso fare la stranzata con l'arma qua? No, non puoi Se ti sdress non potresti Ma io la faccio Uuuuh E un altro arriva anche Sono i due Dietro il furgone bianco e dietro la macchina nera Porco dio bastardo L'altro è lì Dietro la colonna Sono i tre Un dietro la colonna e l'altro dietro il camion Busce l'altro Sinistra che sinistra No c'è il blitz No vabbè raga Non c'è il blitz Nel blitz Asce è in la parte a la sua omega Ma anche la luce Esce sinistra Non c'è il blitz Sì V边ale L'hai da un blitz V边ale Inna L'estima 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 L'obiettivo è raggiungerla e disinnescarla Un'entra da corridoio, regà Un'entra da corridoio Un'entra da corridoio Era... Ok, c'è Glaz in corridoio Dietro... Sud di terra Algo finita Ah Ah Hanno trovato una bomba Ultimo nemico rimasto Non manchè, non posso darmi No va